In grazio della disponibilità, teniamoci in contatto anche con la preghiera. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto oggi e che riteniamo che sia molto importante. Una brevissima riflessione. Nella Bibbia, il racconto della creazione non è da vedere tanto come un rimpianto o il rimpianto di un paradiso perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. L'uomo, noi, siamo chiamati a collaborare per portare a compimento la creazione. Noi ci mettiamo tutto l'impegno. In questi giorni molti di noi stanno andando alla Magdalena. Vi invito anche a due appuntamenti che abbiamo pensato per i prossimi giorni. Al pilone che è stato di recente costruito. Domani, alle ore 17, ci sarà una meditazione, una riflessione per richiamare i valori dello spirito. Domenica, alle ore 17, un altro momento di preghiera. Domenica sarà prevista anche la partecipazione di sacerdoti. Grazie.